buonasera a tutti amici di olimpo tv siamo in compagnia del coach della fulgo romegna marco andreazza davvero questa è stata la prima partita forse della stagione ufficiale ma non sembrava due squadre che non hanno lesinato sforzi grande intensità grande agonismo alba è riuscita forse nel colpo a sorpresa di battere la sua menia questa sera sì innanzitutto c'era grande emozione all'inizio perché dopo sette mesi fermi a casa poi i primi allenamenti ma giocare con un po di pubblico che poi ad alba si sente perché è sempre caloroso tutto quanto giocare una partita ufficiale con i falli la tensione di voler fare bella figura è stato stato bello sicuramente era una partita che mi aspettavo in serie di presentazioni della partita avevo detto anche i miei giocattori che comunque storicamente alba mette sempre in campo formazioni atletiche frizzanti fresche e ben preparate e così è stato noi abbiamo subito un po la loro aggressività all'inizio e alla fine un po più di freschezza da parte loro che hanno messo i canestri decisivi mentre noi li abbiamo sbagliati però un passo falso che non ci piace perché comunque non ci piace su alcune cose che però ci dà spunti per lavorare e sicuramente abbiamo molti margini di crescita soprattutto il risultato forse questa sera conta anche meno l'importante come diceva anche il coach è stato poter tornare a giocare davanti al pubblico e queste due squadre ci hanno regalato davvero grandi emozioni oggi grazie mille grazie a voi